È quello che tutti chiediamo a questa squadra, quindi non deve mai mancare questo approccio e mi rendo conto che non è sempre semplicissimo perché sono gli avversari, però oggi la squadra ha giocato con testa e ha sfruttato una parte delle occasioni, perché abbiamo avuto ancora tantissime occasioni, però il fatto di aver sfruttato le prime due occasioni importanti, aver indirizzato in maniera importante il risultato della partita è sicuramente un aspetto da non sottovalutare.